ah ragazzi è natale fatevi un regalo o fatevi regalare ukomatsu si alza dai fighissimo per chi è amante di questo genere di modelli io lo consiglio certo è un prodotto fatto in metallo quindi è curato ha il suo costo sono 124 euro più o meno circa però comunque dai o per natale ci sta sempre alla grande ciao grazie